È un'antologia collettiva che fa parte di una saga che è Via da Sparta e sono una serie di romanzi e svariati racconti che ho scritto e ho cominciato a pubblicare nel 2017 prevalentemente con Porto Seguro, i rapponti poi con varie situazioni diverse e questa è un'antologia di cui io sono uno dei sette autori ma che mi onora molto perché sostanzialmente sono questi sei autori più me che riprendono le ambientazioni di questa mia saga e tra gli autori, come già diceva Donato, c'è Donato a Tomare, c'è Pierfrancesco Prosperi che conoscete penso tutti ma per me è uno dei più grandi nomi che abbiamo forse nell'associazione autore che ha pubblicato decine di romanzi, c'è il Massimo Acciai che avevamo citato prima chiamandolo il narratore di Di Fredi, c'è Sergio Calamandrei, altro autore che ha spesso pubblicato e scritto assieme a me varie cose prevalentemente brogiallista, c'è una ragazza di quarantenne l'Indale Arcari molto brava che si muove su fronti estremamente vari dalla fantascienza all'erotico, al giallo, allo storico, al storico poi esotico, il giapponese tanto è vero che il racconto suo qua riprende Giappone c'è un autore ucronico Paolo Ninsati e direi che l'ho detto di tutti, di cosa parla? La saga di Via da Sparta parte da un'idea, immaginiamo come sarebbe il mondo ai giorni d'oggi se 2400 anni fa Sparta avesse cancellato la cultura atenese quindi io immagino una ricostruzione storica riportata avanti di secoli con tutti i cambiamenti che ne sono conseguiti quindi una società totalmente diversa sia come organizzazione sociale sia come organizzazione economica, la tecnologia è un'altra quindi prevalenza tanto per dire dell'ingegneria genetica e elettronica assente basato su principi veramente del tutto diversi insomma andatevi a leggere questi sette racconti prendono momenti diversi di questa evoluzione storica paesi diversi, insomma approcci chiaramente diversi perché sono autori ognuno con la sua impronta mano secondo me mantengono perfettamente lo spirito della saga insomma è un libro che veramente sono, non so come dire, orgoglioso e grato di voi qualcos'altro dopo, vero? con un seguito di questo sì, sì, c'è una delle cose, sì no, non credo, no, 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 in realtà su questo direi di no insomma sulla via di Sparta su Sparta diciamo sono tre romanzi fondamentalmente diciamo abbastanza conclusivi ho scritto dei racconti successivi, potrei anche ma ne ho talmente tante di cose da fare che non lo so se insomma c'ho ora una decina di altri progetti che vengono che vuoi seguire sì, sì, tra l'ideologia ne ho curate anche altre ho scritto questa su Dante dove abbiamo donato a Tomane, di nuovo prosperi insomma 36 autori è stato un bel lavoro impegnativo per i 700 anni alla morte di Dante ok, vi ringraziamo